Aperto al traffico, lo svincolo in uscita per Milano-Lambrate dalla carreggiata nord della tangenziale est. Un'opera realizzata da Milano-Serravalle, controllata dalla provincia di Milano, in cofinanziamento con la regione Lombardia e il comune di Milano. Diciamo che delle otto rampe due sono sempre rimaste aperte. Questa è la seconda, diciamo, dove c'è stato un intervento importante che viene attivata. Altre due entro fine dell'anno e invece sulle ultime due ci vorrà più di un anno per terminare. È un lavoro molto importante perché questa parte dell'est Milano, la Cassanese in modo particolare, ma anche la Rivoltana e la Padana Superiore, sopportano un traffico che è in entrata rispetto alla città al mattino veramente straordinario e ci si appresta a ricevere quello che sarà il flusso da qui a un paio d'anni che la Brebemi genererà. È importante quindi che vi sia la costruzione dell'Arco Tem che accoglie questo traffico e il completamento di questa parte di viabilità ordinaria, ma che viene portata a un livello idoneo a ricevere questi flussi, essenziale perché vi possa essere una tranquillità anche per coloro che vivono queste zone, queste aree. Vi è stata una serie di problemi tecnici anche per l'innalzamento della falda freatica che hanno interrotto a più riprese questi lavori. Devo esprimere una grande soddisfazione e le mie felicitazioni al vertice di Serravalle, in particolare al direttore generale Martino, che ha potuto superare un momento di incaglio dal quale sembrava non venire più fuori. Le imprese stanno lavorando, speriamo veramente che ci possa essere un'accelerazione perché è una parte che veramente sta sopportando tra Brebemi e il fermo di questi lavori da troppo tempo una situazione di pesantezza, di difficoltà, di circolazione. Oggi si inaugura la seconda delle otto rampe, le altre si inaugureranno, si metteranno in servizio nei prossimi mesi. La cosa importante è che i lavori vadano avanti, ma siccome i lavori sono bloccati per l'inerzia, per la non tempestività da parte del Governo, ho scritto al Ministro per le Infrastrutture Passera informandolo di quali sono i danni per il nostro territorio se in fretta il Governo non decide. Cosa deve decidere il Governo? Deve decidere la realizzazione, l'autorizzazione perché venga completata la viabilità che dallo svincolo di Lambrate porta al centro intermodale, deve rispondere e decidere il trasferimento al Cipe del progetto definitivo per la viabilità speciale. Quali sono le conseguenze? Si perde 1.100.000 euro di finanziamento straniero, di capitali stranieri che vengono in Italia, si perdono 10.000 posti di lavoro, donne e giovani, che sono la parte più in crisi in questo momento.